Uno degli ultimi video che ho caricato, quello dove insegno al babbo a sparare su Tarkov, ha ricevuto un buon numero di visualizzazioni e questo mi fa capire potenzialmente due cose. La prima è che, evidentemente, vi piace il mi babbo. La seconda è che forse vi piace anche vedere qualcosina di Tarkov messo alla prova. Un po' tipo il Mythbusters di Tarkov. Oggi, quindi, mettiamo alla prova la stamina. Su tantissime piattaforme, YouTube, Twitch, Reddit, Twitter, Facebook, Discord, vedo gente che fa parte della community di Tarkov lamentarsi del suo sistema di peso, ovvero quella meccanica che fa sì che più roba si porta sulla schiena, meno il PMC sarà capace di muoversi con agilità. Il succo della lamentela è che questo sistema è troppo punitivo e basta raccogliere quattro cavolate, 20 chili sulla schiena e già non ci si muove più. E quindi ecco che nasce l'idea per questo video. È vero che con i chili che in Tarkov ti rendono overweight, anche nella vita reale non ti puoi muovere? Al momento della registrazione di questo video, stanno implementando un update straordinario su Tarkov, pertanto non posso aprire il gioco. Ma, siccome questo video l'avevo pianificato da un po', mi sono portato avanti. Ieri notte ho effettuato alcuni test con un amico. Grazie Marco. E sono giunto alle seguenti conclusioni. Tramessa, ho compensato per le skill del mio PMC. Questo vuol dire che ho ricalcolato i dati cercando di togliere o aggiungere i vari nerf e buff che le skill mi permettono di avere. Quindi i dati che vi sto per dire sono quelli di un PMC con forza 0 e stamina 0. In Escape from Tarkov un PMC con 0 chili addosso può correre per circa 110 metri con una sola barra della stamina. Per percorrere questi metri ci mette all'incirca 30 secondi per una velocità media di 13 km orari. Il tempo necessario a recuperare la stamina è 28 secondi. Arrotondiamo a 30. Con 35 kg sulla schiena, il PMC percorre invece 105 metri in 25 secondi. Questo vuol dire che la barra della stamina dura di meno, ma per assurdo corre persino più veloce che senza niente sulla schiena. La velocità media infatti con 35 kg su Tarkov è 14,6 km. Ora è importante constatare che 113-105 metri non fanno un'enorme differenza. Quindi direi che la distanza non è così influenzata dal peso che si porta sulla schiena. La velocità per assurdo sì, e con peso sulla schiena si corre più veloci, ma ciò che cambia più di tutto è il tempo che ci si mette a esaurire la stamina, perché se sono 30 secondi senza carico addosso diventano 25 con la schiena pesante. Ora, per testare questa meccanica ho fatto qualcosa di assolutamente folle. Sono uscito all'aria aperta. Lo so che è incredibile. Lasciatemi dire che innanzitutto la grafica è spettacolare. Sembra veramente di essere nella vita reale, incredibile. Se aggiungiamo i suoni degli scav... Mi sento a casa. Cavolate a parte, siamo qui per vedere se il sistema di Tarkov, di corsa, peso, inerzia eccetera, è abbastanza verosimile, abbastanza simile a quello che potrebbe essere la realtà. Ora, premessa, l'ultima volta che ho fatto attività fisica Obama era presidente, quindi d'accordo, non sono preparato come un PMC, non ho la preparazione fisica di un PMC, ma non è questo che conta, perché comunque penso che sia un riferimento importante che qualcuno ci provi, vero? Non ho la preparazione di un PMC, ma ne terremo conto. Ora, per evitare di farci male, prima di fare il nostro test faccio giusto un giretto di corsa del parco per riscaldarmi, giusto per non finire all'ospedale per un video su internet. Benissimo, ora che sono sudato a schifo, questo rettilineo è all'incirca 100 metri. Se non ci credete, ecco la mappa dall'alto. 100 metri è anche all'incirca la strada che percorre un PMC in circa 30 secondi consumando tutta la barra della stamina. Per recuperare la stamina ci vanno circa 30 secondi di nuovo. Quindi il piano adesso è questo, facciamo 100 metri di corsa in 30 secondi che è la stessa velocità che ha un PMC. 30 secondi di recupero dall'altra parte e 100 metri a tornare indietro e vediamo se sono ancora vivo. Ok, ci ho messo 20 secondi, quindi ho corso tipo il 30% più forte di un PMC. Oh mamma mia, sono fuori allenamento! 15 secondi di riparto Allora, sono fuori allenamento! dunque abbiamo imparato delle cose importanti primo non sono morto secondo persino io con pochissimo allenamento riesco a correre molto più forte di un pmc quindi al massimo possiamo lamentarci del fatto che su tarco vpmc corrono poco riguardo al recupero della stamina invece devo dire che 30 secondi come avete potuto vedere dalla clip effettivamente mi hanno permesso di smettere di respirare pesante quindi forse finora abbiamo scoperto che la cosa poco realistica è la velocità a cui si corre ma recupero e anche la lunghezza dello scatto ci stanno ora viene il bello questo è il mio zaino è un gran bello zaino ma in questo momento pesa 35 kg che siccome sono un 80 per 86 kg sono più di un terzo del mio peso 35 kg e anche la quantità di roba che si può portare in tarcov a mio avviso prima che le cose inizino a farsi parecchio scomode quindi prima di subire grossi deterioramenti alla velocità della corsa alla stamina e recupero della stamina eccetera ora avete presente quando in tarcov buttate lo zaino per terra poi andate vicino premete f lui se lo mette su vi faccio vedere cosa ci va a mettersi uno zaino da 35 kg sulla schiena nella vita reale stonks e se posso mi permetto anche di farvi notare la mia postura sono praticamente inclinato come michael jackson ma sono in equilibrio se cerco di andare dritto ho gli addominali in fiamme quindi temo che abbiate una mezza idea di quello che sta per succedere vero 100 metri 30 secondi 30 secondi di recupero 100 metri indietro vi ho voluto bene 30 secondi di recupero 100 metri indietro 30 secondi giusti mio dio mi chita maledetto 5 secondi 5 secondi no ragazzi mi ammazzo no 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 cosa abbiamo imparato punto primo forse devo passare un po meno tempo seduto alla scrivania e un'oretta la settimana almeno fare qualcosa perché sono l'ombra di quello che ero da piccolo comunque secondo abbiamo anche imparato che incredibile ma vero in tarkov è più facile correre con lo zaino che nella vita reale chi l'avrebbe mai detto terzo avevo pianificato anche altri contenuti per voi con questo zaino nello specifico test dell'inerza per vedere se ci si ferma più o meno nello stesso spazio e test di movimento laterale ben tornati in studio dunque abbiamo visto che effettivamente tarkov non è realistico nel senso che il pmc è molto più prestante di una persona reale o meglio una persona reale con zero allenamento quindi se proprio vogliamo tirare la corda possiamo dire che è plausibile pensare che appunto un militare o comunque un paramilitare addestrato riesca a portare i chili che ho fatto fatica a portare io più o meno con le tempistiche di tarkov sicuramente con qualche allenamento con un po di allenamento dovrei essere in grado di fare i 200 metri avanti indietro con lo zaino e magari di accelerare leggermente il mio passo tuttavia la velocità è totalmente realistica perché con lo zaino sulla schiena correvo un sacco più lento un'altra cosa che è importantissimo fare presente a tutti gli arnold svalzenegger e john rambo che ci saranno nei commenti è che sì io sono una chiavica e potrei allenare il mio fisico per mettere su massa muscolare per mettermi di gestire con più facilità il peso che mi sono messo sulla schiena ma quello che non posso allenare sono le mie ossa con questo voglio dire che il peso l'effetto che ha sul mio corpo lo zaino è lo stesso che io sia quello che sono adesso o un bodybuilder per cui non penso che uno riesca a saltare rimanendo in salute diciamo senza danneggiare gravemente il proprio corpo e penso che comunque la corsa si faccia sentire in ogni caso certo con una maggiore gestione del fiato eccetera si può correre di più ma comunque i chili li sentono tutti quanti dal più gracilino al più grosso per tutti quelli che invece dicono eh ma tarkov è un videogame dovrebbe rimanere divertente vi dico questo punto primo è vero che tarkov è un videogame ma il suo divertimento ciò che lo rende divertente è il fatto che tende a essere realistico cerca di dare un'esperienza realistica al giocatore punto 2 vi assicuro che tarkov è già molto generoso in diversi aspetti ad esempio quello che potete mettere nello zaino permettetemi di farvi un esempio questo è il mio zaino è lo zaino che ho usato nel video come dimensioni è praticamente identico all'f5 di tarkov 3 zip insomma quella famiglia di zaini lì che in tarkov sono 6 per 5 slot questo vuol dire che posso tranquillamente farci entrare una vs in verticale che occupa 4 per 3 slot o ancora due slot sotto e due slot in verticale in quei due slot in verticale potrei per esempio mettere un m700 in verticale e in quei 3 per 2 slot che mi avanzano in fondo potrei per esempio mettere un elmetto beh armi in casa per via del canale youtube delle armi ne ho e facevo anche soft air quindi ho un pochino di abbigliamento vado a prendere due cosette questo è un giubbetto tattico che assomiglia più o meno una vs insomma una cpc roba del genere tv 110 quella roba lì proviamo a metterlo nello zaino ok ci sta ma occupa interamente il mio zaino mettiamoci un saleua dentro anche e già non è proprio due slot per uno nella vita reale un elmetto mic 2001 come quelli che vende peacekeeper e lo zaino non si chiude più a devo ancora mettere il m700 ora vi sto spocando l'immagine ovviamente per fare felici signori di youtube ma ditemi in quale mondo questo può stare completamente racchiuso all'interno di questo zaino quindi in sintesi tarkov sta già semplificando diversi aspetti della meccanica del trasporto degli oggetti basta piangere se avete apprezzato la mia dedizione al mondo di escape from tarkov vi prego di premere il bottone subscribe non è difficile basta prendere il mouse spostarlo in basso dove c'è il pulsantino che dovrebbe essere più o meno qui clic e siete iscritti se volete supportarmi economicamente potete farlo acquistando una delle mie massellissime magliette che vendo nel mio shop di amazon di cui trovate il link in descrizione noi ci vediamo al prossimo video e questa sera lunedì su twitch con inox au revoir grazie a tutti